un cordiale saluto a tutti voi e benvenuti da loris 98 qui alla paradiso tigers arena dove tra qualche istante si svolgerà la partita paradiso tigers contro capolago flyer come potete vedere io penso che sarò lì sopra penso sicuramente sarò lì sopra sulla scala questa è la paradiso tigers arena dove proprio qua si svolgerà la partita allora iniziamo a presentarvi tutta l'attrezzatura qua che abbiamo pronta la telecamera primaria eccola lì su gradino tutti i cavi che scendono e arriviamo così alla postazione del nostro alessandro chinelli vedo l'inquadro dopo quello qua allora questa telecamera del tempo ed eccolo il nostro alessandro chinelli con le cuffie ciao ale guarda che bella telegista te guarda qui anche tu ecco bene sì qua vediamo non fateci caso il cappello non chiedetemi perché vedete un cappello non l'ho portato io magari poi lo vedremo chi l'ha portato sto cappello guarda un po' andare via al sole pronti a pochi istanti saremo in diretta su iswar tv scopritene di più questa partita paradiso tigers contro capolago flyer ovviamente domani saremo in quel di cassina quindi ci vedremo ancora buona parita a tutti a dopo ecco il mitico axel paderni vestito da american beer fest praticamente ciao axel telecronista ed è sempre qua il nostro alessandro chinelli quasi abbassato intanto il sole sempre più pronti che iniziare questa partita paradiso tigers ecco lì la tigre wallah la tigre tigers praticamente pronti qua siamo pronti ragazzi tra poco inizieremo 4 a 1 qua nostro alessandro chinelli nostro axel paderni 4 a 1 primo tempo qua vediamo la mascotte dei tigers in porta portiere lui in porta il momento di della pausa ecco anche la tigre dei tigers è la sopra attenzione perché palo 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 subito qua è tutto calcio qua giustamente torniamo anche un po' dal nostro la nostra postazione della regia nostro alessandro chinelli giustamente torniamo un po' anche qua situazione questa 4 a 1 tanto lì abbiamo un calcio così si continua qua ragazzi buona partita davvero ai tigers paradiso no ma premesso sono andato anche i genti che tu non ho è il punteggio di 6 a 3 qua ciao paradiso tigers eccolo ecco lì la buvette è aperta qua paradiso tigers arena pronti per il terzo quarto di gioco direi che ci vedremo ancora verso la conclusione bene vittoria per il paradiso tigers 11 a 8 attenzione grazie a tutti grazie grazie ecco axel paderni grazie a tutti ciao grazie a tutti bene caderno 98 è tutto ragazzi alla prossima meritata vittoria per i tigers paradiso il nostro alessandro chinelli ci saluta ballando qua dal partito tigers a domani con la partita di Cassina d'Agno bella grazie a tutti